ci siamo e non vi siamo scappate particolare anche oggi ai gradi alti rischi un po di meno perché chiaramente l'azienda ha svuotato i magazzini di mezza europa per i veniti non c'è altro niente rientrato em degli arctic monkeys e rientrata anche l'ultimo nuovo album degli arctic mochi il nuovo album rientrata anche l'anno ma c'è smemo da funk un po di di india gli atene di ragazzi vabbè questo è un classico e rientrata anche la colonna sono di abolic album di progressive rock bellissimo bellissimo new entry la raccolta di cure e new entry anche fate sempre di cure rientrato il nuovo album delle doci di pepper infine rientrata che figlio unico che apparente abbiamo due tutti erano soltanto questo e fornitori poi va bene questo lo conoscete questo lo conoscete e questo lo conoscete rientrato animo seremo in floyd l'album dei muratori scherzo è a brazza se di santana è rientrato fox dei genesis infine guarda dottore club night in call è l'immancabile raccolta di guida di youson sappiate che i dal due in poi pubblicheremo le nuove di stampe 180 grammi di guida di youson tutte edizioni limitate e colorale allora noi saremo aperti fino al 31 e 31 si chiuderà le ore 18 18 siamo qui vedete come si riesce a trovare qualsiasi cosa ci iscrivete da da tutte le parti dato di sapere la info gli occhiali spedizioni sono tutte attive i corrieri volano quindi io adesso provo a fare un ultimo giorno a proposito lo dico perché non provate a fare i giampo come li facciamo io a femmè perché abbiamo saputo che molti soccorsi di mensile della storia di gente che stai slocata una caviglia se notte il femore la spalla fuori posto e dai e già questa è andata insomma ciao sembro desiglia